Pasquale Marino Intanto preferisce non affrontare questo capitolo e contattato da prima linea TG risponde seccamente così Insomma il tecnico Marsalese vorrebbe chiudere subito ma il temporeggiamento del Catania lo fa preoccupare Con il dubbio allenatore è fermo anche il mercato degli etnei Ci saranno però dei ritorni anche per fine prestito come quello del portiere Handukar Che manda segnali di riconciliazione con il club Ormai è questione di giorni, di ore e anche l'ultima casella sarà riempita Il Catania avrà il suo nuovo allenatore che potrebbe, anzi dovrebbe essere una vecchia conoscenza Stiamo parlando di Pasquale Marino che resta in pole Già tecnico del Catania fra il 2005 e il 2007 e soprattutto ispiratore del 4-3-3 Il progetto tattico che stando anche alle parole del neo DS Salerno rappresenterà la base del nuovo Catania anche per la prossima stagione Con Marino che aveva lasciato Catania dopo la prima salvezza in A per accasarsi ad Udine Su questo si andrebbe sul sicuro Diversa l'evoluzione in tal senso di Maran che ad esempio quest'anno col Varese ha giocato col 4-4-2 Maran però è seguito, lo sarà anche oggi, in occasione della finale di andata dei play-off DB con la Sampdoria Anche se l'attenzione dei dirigenti del Catania sarà catalizzata soprattutto da due giocatori del Varese allenato da Maran L'attaccante De Luca e il difensore esterno sinistro Grillo L'altro nome, quello di Michele Serena legato contrattualmente allo Spezia Rappresenterebbe un altro tipo di continuità, quella del giovane di prospettiva come lo era Montella A proposito del tecnico pronto a firmare con la Fiorentina, i Viola sono pronti a girare al Catania Il centrocampista ganese Salifu classe 92 che arriverà in presito con diritto di riscatto della metà In casa Palermo il mercato